c'è stato un problema grosso alla telltale hanno avuto evidentemente dei problemi con degli investimenti non si sa bene nel dettaglio come è andata a finire comunque è stata licenziata un sacco di gente sono stati licenziati un sacco di sviluppatori e purtroppo la telltale ha chiuso quindi vedremo se almeno per The Walking Dead si riuscirà a vedere la fine perché in molti comunque hanno detto di voler aiutare la telltale almeno a chiudere il capitolo quindi vedremo questo sì che avrei assunto fatto bene finalmente però ho riuscito e ho trovato che ho stato salvato da un ragazzo nome Marlon il leader di una comunità che vivendo dentro di una vecchia scuola di scuola mi sento come una possibilità di avere una casa, una reale abbiamo dovuto andare a la stazione di treno per vedere se alcuna di acquistare l'esplosione queste sono state tutte le discutibili decisioni che ho preso dei ragazzo che avevano in un anno fa Marlon tradedo tennese's older sister alle ragazze per le ragazze per mantenere la segnale per mantenere la segnale lui ha attaccato Brody e mi chiamato in un basso con lui quando si riuscì, ho dovuto farlo Marlon trova A.J.'s gun e ho cercato a convincere che io avevo morto Brody Ma? Ma? poi Marlon era morto e A.J. si riuscì il triggio lui ha ricordato ciò che gli ho insegnato di sempre agire per la head quindi ripartiamo oddio è giorno quindi il cappellino ah dicevo che aveva abbandonato il cappellino ho detto no non è possibile non può aver abbandonato il cappellino come si riuscì il cappellino si riuscì e si riuscì sono la città ti ha detto che posso riuscì la città non 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 I'm surprised you remember how to make it we haven't had coffee in a long time you put it in hot water you're right thanks last night with Marlon I heard Lewis and what he called me am I a murderer tecnicamente si niente adesso è colpa sua se questo è sociopatico ma porca miseria murder but but we're supposed to kill bad stuff monsters did I do it bad I thought Marlon was bad he killed Brody he he kept telling lies Lewis was right sometimes people do bad things like Marlon did but when you shot him he wasn't a threat to us anymore if you kill someone when they're no longer threatening you that's murder what are we gonna do come il tuo rapporto con EJ è cambiato back off all of you you talked Marlon down and then they fucking murdered him take AJ go inside come on let's go oh just let them go back to the dorms what happens the next time one of us does something this kid doesn't like should we expect a bullet to that's not what happened it's exactly what happened no he wouldn't do that he'd never heard any of you it was Marlon threatened us AJ pointed the gun first si è vero però ci stava minacciando cioè nel senso è successo let's go Clem Clem if I'm a murderer am I gonna die too what no well I think murderers are like monsters and I know what happens to monsters nothing good no nothing good at all AJ you're not a monster we're going to fix this you and me I'm going to help you atone a tone it means make up for what you did wrong we'll make it all right with the others for God's sake someone help me with this save you from that car wreck and you fucking murdered him get back Mitch get back or what you can let him kill me too then who's next a sim willy having enough people died tonight brody marlin we can't keep killing each other buck are you saying that to me after what he did screw both you cioè sinceramente a parte che sto miccio io non l'avevo neanche visto l'altra volta vabbè comunque c'è stanno comunque difendendo una persona che ha ucciso due di loro eh senza dire niente you've killed a lot of people you murdered your friend Lee didn't you what no you said he was handcuffed he wasn't a threat ma si stava trasformato so that means you murdered him no I killed him because I loved him I didn't want him to suffer how he'd be dead he would have turned I didn't want that for him he deserved better cioè gli mancano le basi i love you back purino c'è non capisce veramente c'è non lo fa apposta non capisce he he Violet said to come get you for the funeral really we used to have them more then we stopped it seems right though I brought you something for me I figured you'd be afraid with everyone all upset però tu eri bravi l'anima l'anima, come un faierefattor no, faierefattors sono buoni, sono un faiere no, tu non, devi avere un risultato prima hanno deciso di questa cosa in una scuola, è come funziona e funziona, prima back then, c'erano alcune regole su chi è inocente, chi è guilty è vero una verità è complicato abbiamo bisogno di decidere cose per noi non possiamo imparare altre persone per fare le regole per noi chi è deciso che sei un faierefattor? Clem, ma lei è vero, così è tutti gli altri credo che sei bene sei sicuro che non vuoi un faierefattor? devi mantenere, perché sei buono, come lui ma magari possiamo giocare con lui dopo, insieme? non potevo non dirgli che è un assassino perché comunque deve imparare, nel senso a prescindere da quello che è successo cioè lui ha comunque assassinato Marlon a prescindere dal fatto che lo abbia fatto, beh, l'abbia fatto per difendersi o meno cioè in quel momento Marlon era innocuo, come ha detto Clem, quindi è stato obiettivamente un assassino lui deve capire la differenza, quindi è inutile dirgli no, sei stato bravo, sei stato coraggioso, sei stato un eroe no, l'hai assassinato deve capire la differenza tra cosa rappresenta una minaccia e cosa no nel momento in cui Marlon stava puntando la pistola a Clem, se lui avesse avuto una pistola e avesse sparato allora sarebbe andato benissimo perché lui la stava minacciando ma il problema è stato che lui comunque aveva posato la pistola dopo e si stava convincendo, comunque era tranquillo è stato quello il problema ok, mi bevo il caffettino che mi ha preparato AJ non potevamo arredare la stanza, anche se ora in realtà non so che senso abbia più arredare la stanza visto che considerate che molto probabilmente ce ne dovremmo andare forse dipenderà dal verdetto degli altri può smettere Clem di fare riferimenti a cose che muoiono sembra veramente che si diverta a rigirare il dito questo è quello di AJ io direi di andare al funerale se andare al funerale della persona che hai ucciso mamma mia è influenzato dai miei insegnamenti ok, quindi se ne starà spero tranquillo nel senso spero che abbia capito cosa deve fare e cosa non deve fare forse dovrei parlargli prima prima che iniziamo oh, lì è dove è morto l'importante è che lo capisca chi è che sta parlando e dove? ah, sono già partiti con il funerale sì che poi, cioè, loro fanno tanto, no? è buonissima cioè Marlon ha ucciso Brody se lo sono dimenticato forse e si sono anche dimenticati che Marlon ha ucciso anche le sorelle dell'altro ragazzo sì, ma Marlon... just leave them alone shit Clem? what? why do people have funerals? Tim said they used to have them more they died well, to remember people we loved they loved Marlon yeah, they did I made them all sad like if someone took you away does everyone get a funeral? people do some animals too even monsters Marlon did bad things but he wasn't a monster I know Ten you ready? eh, erano le sorelle di Ten quelle che lui ha fatto you always said you wanted to go to the beach so? I drew it for you purino Marlon Marlon was I can't not for Marlon after what he did to the twins and Brody I you didn't even like Brody you were always mean to her non importa I can't someone else do it bitch dude don't seriously Louis he was your best friend he was your best friend he was your best friend but he deserved better than to get gunned down by that kid he just killed him like it was nothing we all saw it and no one stopped him I don't appreciate your tone, Mitch yeah? well, I don't appreciate your kid murdering my friend I know I'm a murderer but I'm gonna uh uh a tone yeah a tone fuck I can't listen to this sempre detto che non mi piaceva quel Louis what I did was bad and I'm gonna make it up to you I promise you don't have to make up shit Marlon was a fucking murderer and a liar and if we'd all ask more questions about Minnie and Sophie disappearing last year none of this would have happened vero she's got a point shut up wasn't Marlon's fault Violet's right you all share responsibility for what happened to Sophie and Minnie and to Brody and what about Marlon who's responsible for that who's responsible for that you like oh you like see what I mean how can any of us trust these fucking people what are you saying I'm saying they gotta fucking go take a vote majority decides they stay or they leave today that does seem fair are you serious it's bullshit you're bullshit please don't do this I know you're angry but You don't know shit If you did you would stop DJ Ma come fai ma Infatti Sì infatti è un ipocrita Perché Marlon ha ucciso Brody Beh che ci siano delle conseguenze Abbastanza ovvio Cioè non è che possono far perdere niente Come on let's go Purina Violet È l'unica che ha preso le nostre difese in quel momento E come avevo già detto A me quel Luis Non piaceva Mi stava simpatico Fin dall'inizio dicevo Sì 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 è simpatico Peccato che simpatico simpatico Però si è compurato malissimo Più e più volte Ed è stato il primo poi a non far niente Più di una volta Eh in effetti sì Perché il problema è È che loro Cioè il tizio adesso è arrabbiato Perché è stato ucciso il suo amico Ma non si sta neanche ricordando Non si sta neanche ricordando Che il suo amico era un assassino Perché il suo amico ha ucciso A sangue freddo si può dire Le due sorelline Di Todd si chiamava Dell'altro ragazzino Cioè le ha Le ha sacrificate Quindi Beh Non ci sono i buoni e i cattivi qui Ognuno di loro ha fatto qualcosa Per quale motivo AJ sta prendendo a calci col muro Quindi niente Prendiamo a calci col muro E non funziona Ho fatto ciò che hai detto E non ne ho mai importato E non ho mai importato E non ho mai importato E non ho mai importato Ma non mi lasciano riuscire Ma non mi lasciano riuscire Devo dire che se avessi bisogno di qualcuno a guardarmi le spalle e Jay sarebbe la mia scelta numero uno, eh? Sì. 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 Mi piace Luis? A me no, sinceramente lo trovo abbastanza ipocrita. Sempre in tempo per ricredermi, eh? Sì. 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 Addirittura pericoloso. Poi davanti a lui, cioè, Luis mi sta veramente iniziando a rompere le scatole. Sì. 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 Volevo ringraziare Violet perché comunque ci accompagna. Sì. 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 Non so perché, ma secondo me quella pistola ci sarebbe servita dopo. Penso. Direi saluta. Sì. 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 Prowaddi. Come by. Buon nhân выполnare. Fucking pro. Ed è io. Ho Ridit Value,jakась finden Siege. primo piano per膙 まció sera. Tuover tô warò mieي! Cight? Voi.